Lettura del proemio del libro L'ultima dea d'Occidente, saggio sulla razionalità inesorabile, anno di pubblicazione 2018. Il dramma della ragione. Appena pochi secoli dopo la nascita di quel sapere che verrà poi detto, tra virgolette, filosofico, l'Occidente ha iniziato a determinarsi sotto il segno di una ragione sistematica che si ritiene legittima in quanto avoca a sé i caratteri assoluti di unicità ed univocità di lettura del mondo. L'enfasi genericamente associata alla presunta nascita della ragione, posta non innocentemente quale imponente inizio e fondamento della filosofia e delle scienze posteriori, è un'imposizione arbitraria e in un certo qual modo anche scellerata poiché lascia credere che la ragione o le verità degli antichi abbiano tratti comuni se non persino uguali alle associazioni contemporanee dei tali termini. La ragione antica è unitaria in un senso ben lontano dall'unità ampollosa e speciosa dei moderni. La ragione degli antichi è fisica e metafisica, materiale e spirituale, mitica e mitopoietica e non si determina come contrapposta al mito ma a questo complementare e sovente da questo dipendente o interdipendente. E' nel mito e nelle complessità della psyuche che si spiega la ragione degli antichi e non, come avverrà in seguito, attraverso quella razio con cui si pretende di spiegare il mito, la vita, il cosmo o persino le verità. La pretesa di spiegazione del mito nella ragione contemporanea è invece un tentativo di cancellazione dell'intrinseca polisemia del pensiero mitopoietico e delle sue conseguenze significanti. L'antichissimo testo cinese del Tao de Ching già dal primo verso avvertiva infatti il Tao che può essere nominato non è l'eterno Tao, ammonendo così alle origini della storia contro un'intelligenza che si crede sempre capace di nominare, manipolare e ridurre qualunque cosa ed evento ad una classificazione utile o ad un gergo. La ragione cui siamo ormai adusi e dalla quale siamo purtroppo sottoposti ha un'origine relativamente recente e si delinea e consolida con quelle che potremmo definire come le società del potere e del meccanismo di dominio, ossia quella particolare configurazione sociale, oggi dominante, le cui chiavi sono il criterio gerarchico, l'utilitarismo e il controllo, sia quello sulla natura, i suoi elementi, le sue fiere e gli altri animali, sia quello sugli altri esseri umani. La natura, letta dalla sola prospettiva della ragione secunda, è una natura fatalmente piegata e schiacciata in cui esiste soltanto ciò che può essere soggetto a manipolazione e controllo. Ed è anche da qui che proviene la radice ideologica del subiectum contemporaneo. Nei secoli molti sono stati i tentativi compiuti dal pensiero per uscire dal corso del dominio intrapreso con le età delle tecniche, ossia le epoche storiche, la cui impostazione centrale è prepotentemente rivolta al potere, all'ipostatizzazione della volontà e dal dominio che derivano dall'organizzazione sociopolitica del mondo. E partendo da tale impostazione orientata alla prassi e al dominio che nel tempo verrà a consolidarsi una ragione ancillare alle società del potere. Prima di questa drammatica metamorfosi, la ragione era ancora una tra le luminose e luminose sapienze rivolte al destino dell'essere umano e dall'indagine sui misteri e sulle ragioni cosmiche dell'universo, dell'esistenza e dell'esistente. Il mondo degli antichi era politeista sotto ogni aspetto. Il pensiero arcaico ed antico si volge e rivolge costantemente verso le vie del senso e del significato, il senso che intende ed il significato che edifica sull'intendimento. È proprio nell'antecedere del sentire rispetto al significato che risiede l'inesprimibile scarto tra questi, il perenne scarto di senso tra l'essere ed il sentire che non può essere reso, manipolato o conchiuso da una qualsivoglia formula o dichiarazione. Tra un fiore colto e l'altro donato, l'inesprimibile nulla, scriverà Ungaretti. Da questa frattura tra essere e sentire, a volte resa nella differenza tra esprimibile e inesprimibile, sorge anche l'inexprimable nell'arte, nella religione, nei sentimenti, nel mito o nel pensiero profondo. Se la ragione discorsiva, dialettica, deve necessariamente condurre da un punto ad un altro, dall'argomentazione alla dimostrazione o dall'affermazione alla negazione, il mito non contiene né tende ad un solo percorso ermeneutico. Il tessuto e lo sfondo della ragione dialettica è il tendere ad una dimostrazione ordinata, conseguenziale, sicura ed univocamente condivisibile. A non può essere non a. Così come la neve è bianca se e solo se la neve è bianca. A uguale a. E tra questi due termini si giocano larga parte delle determinazioni della logica e del pensiero detto tra virgolette razionale. Nei parametri della logica tradizionale tutto deve essere sempre conchiuso nei termini di una relazione ordinata. Il mito, il linguaggio della sapienza, dei simboli o del sentire conoscono invece molte altre vie per esplorare i labirinti della conoscenza e del mondo. Pollacos leggeta e toon. Ciò che è, l'essere, si dice in molti modi. Ogni qualvolta si faccia strada un discorso sulla ragione, questa ne emerge con i panni che il commentatore moderno vuol farle indossare. E questo può così diventare di volta in volta un discorso sulle teorie della conoscenza, sull'esperienza, sui criteri di validità, sulla logica, gli universali, l'induzione, l'epistemologia, la critica, la necessità, la causa e l'effetto, la psicologia, il linguaggio, il piacere e il dolore, la volontà e il desiderio e quant'altro ancora. In tale contesto la ragione sembra sappia sempre come stare sia da una parte sia dall'altra, indossando il tocco del savio o la beretta del folle, le vesti lacere del giullare o il manto regale del giudice, la corona dal loro del poeta o gli abiti poveri e smunti della sapienza. Dietro tale apparenza monolite la ragione si presenta allora come quella dea polimorfa capace di accogliere nel proprio castello tutto e il contrario di tutto. Sotto il suo tetto trovano così rifugio architetti del pensiero e guastatori, santi e peccatori, savi e villani, pensatori e accademici, tanto quanto ierofanti e sicari, scherani e caudatari o musici e iettatori. Sembra allora che la lucida ragione di Euclide e le sottilissime astuzie di Bertoldo, lo sguardo polimorfo di Leonardo e l'acumerazione cinante di Galilei, l'assertività di Eraclito e la discorsività di Socrate, le ombre di Caravaggio e le anamorfosi di Holba e Neil Giovane o le mezze tinte di Marius Cornelius Escher convivano in un certo modo tutte sotto lo stesso manto. Eppure c'è una ragione che apre i sentieri ed una che li chiude, una ragione divergente ed una convergente, una ragione che chiede ed una ragione che parla, una ragione del pensiero vivo ed una ragione del pensiero morto, una ragione prima ed una ragione seconda. C'è la ragione in cui Achille non raggiungerà mai la tartaruga e quella che, in modi astuti e celati allo sguardo superficiale, sa come infrangere anche i percorsi convergenti. C'è una ragione che accoglie ed una che rigetta. La ragione che si abituati a chiamare con un solo nome si presenta allora come una dea dagli infiniti nomi. Oggi questa natura proteiforme della ragione, ben chiara agli antichi, viene ridotta ad un banale relativismo cognitivo, senza invece considerare questa come il riflesso dei molteplici significati dell'essere e della verità. La ragione originaria che guarda al mondo con l'occhio del significato, non alla sola ricerca di elementi di controllo e manipolazione, si è mantenuta nel tempo, anche se spesso stata perseguitata, allontanata e costretta in rivoli segreti e perigliosi. I grandi pensatori hanno sempre inteso il mondo attraverso lo sguardo di questa ragione prima, Prisca Ratio. Ed è in questa visuale che trovano sintesi e compimento le filosofie antiche del pensiero moderno. Newton o Einstein, Tommaso Campanella e Giordano Bruno, Niccolò Copernico, Tico Brache o Johannes Kepler e moltissimi altri hanno provato a pensare il cosmo e l'essere umano attraverso uno sguardo che non si fermava alle cose, ma partiva da queste per esplorare quel che si pone al di là da queste, spingendosi con il pensier dove per poco il cor non si spaura e cogliendo in quell'infinito silenzio un'inaspettata voce sottile, profonda e buona che la Bibbia chiamerà come un sussurro di sottile silenzio. Le relazioni umane basate sulla razionalizzazione e sulla quantificazione vengono attraverso queste nullificate e così dove si credeva di trovare un essere umano si scopre a malapena un cervello calcolante secondo meri principi di profitti e perdite, ossia quei caratteri che definiscono e determinano l'homo novus dell'evo contemporaneo. In tal modo e drammaticamente l'essere umano si distanzia dai suoi simili percependo invece dell'umanità appena una sequenza di valutazioni calcolanti e quantitative che alla fine raggiungono e stravolgono anche gli stessi. Non a caso il diavolo dantesco farà notare d'essere loico, anche se la sua è una logica di secondo ordine, capace solo di misurare e pesare, una logica seconda derivata e derivabile da una ragione fatta di soli pesi e misure. La riduzione dei rapporti umani all'ambito della logica quantitativa di profitti e perdite ne determina così la loro successiva quanto temibile nullificazione. Se gli esseri umani si incontrano o possono incontrarsi unicamente sulla strada dell'utilitarismo, sulla via pietrosa del mercato, ossia di ciò che è ritenuto materialmente conveniente tra virgolette, essi allora non si incontrano più. La successiva riduzione del cosmo alla logica quantitativa di rapporti assoluti di profitti e perdite è anche il vero inizio del nichidismo. E questo si incarna narrativamente nel soggetto malato delle memorie del sottosuolo, nel naturalismo o nel verismo, e contiene la disperazione ed il dramma dell'individuo contemporaneo che consiste in larga parte nell'aver stravolto la ragione, interpretandola come poco più o poco meno di un elaborato utensile nelle mani del capobranco di turno. L'homo novus, il tipo umano oggi dominante e trionfante, si è in tal modo smarrito in un cosmo vuoto e freddo di un disperato nulla, senza alcuna risposta che non sia quella mai offerta dalla materia e dalle cose. L'essere umano che più non comprende il limite che gli viene imposto dal finito e dall'esistente, intendendoli invece come misure supreme di tutte le cose, confonde il reale con la percezione e le pulsioni, divenendo tragicamente sordo alle voci del mondo e prono alla follia della iubris e della volontà di potenza, finendo per credersi ben alto dalla propria natura mortale, uno smarrimento dalle gravissime conseguenze umane, storiche ed esistenziali. Il modesto contributo qui offerto prova a rispondere ad un immenso e nefasto problema sociale e umano, il dramma moderno e contemporaneo rappresentato dall'emergere di una visione del mondo particolare e mortifera detta qui ragione secunda, che si è imposta alle menti di molti e nelle categorie delle diverse società, totalizzando e indirizzando la conoscenza dell'esistente e schiacciandola sul solo esistere.